La manovra faremo in autunno sarà quella allocherà i soldi per il ponte parola di Matteo Salvini. Così a risposto a coloro hanno messo dubbi sulla promessa questa volta il ponte sul pontelo. Stretto sarebbe davvero realizzato su di lui. Ad oggi non ci sono coperture finanziarie disponibili. Con la legislazione attuale e che. Pertanto, queste devono essere identificate quando si definiscono fattura del bilancio 2024.